Torna a far tappa oggi a Giulianova nella centralissima pineta sud del Cursal dalle ore 16.30 alle 22.30 il camper vaccinale per la campagna Beach Covid Free, messa in campo dall'Asne in sinergia con i comuni della costa Terramana. L'iniziativa varata il 2 luglio scorso finora ha fatto registrare numeri importanti. Possono sottoporsi a vaccinazione i residenti e per la seconda dose i turisti che dimostrino di soggiornare in città per almeno 15 giorni. Necessario solo avere con sé la tessera sanitaria. Inoltre il camper dà anche la possibilità di sottoporsi a tampone in maniera gratuita. Ringraziamo l'azienda sanitaria locale perché il camper darà la possibilità ai tantissimi turisti che sono in questo momento a Giulianova di sottoporsi al vaccino e anche ai nostri cittadini che hanno non avuto tempo magari durante gli altri periodi per motivi di lavoro. Quindi comprendete bene che è determinante. La provincia di Teno mi complimento perché circa il 70% della cittadinanza è già vaccinato e quindi stiamo andando su una direzione importante. Vi dico anche che le persone che sono vaccinate se vengono a contatto con il virus hanno pochissimi sintomi se non nulla. Quindi è determinante vaccinarsi per evitare di arrivare all'autunno con gli ospedali di nuovo in sofferenza come negli anni, nei due anni precedenti. Quindi mi raccomando gli strumenti li avete tutti e andatevi a vaccinare. Questo è anche frutto di un grande lavoro fatto in sinergia tra i sindaci e l'Asde di Teramo. La categoria dei sindaci ha dimostrato in questi due anni di pandemia di essere determinante e di conoscere la sintomatologia del territorio e delle persone. Quindi l'Asde ha combattuto una battaglia e sta continuando a combatterla nei presidi ospedalieri, all'interno degli hub vaccinali. I sindaci, la protezione civile e la Croce Rossa stanno facendo un lavoro straordinario per permettere all'azienda sanitaria e ai medici di lavorare nella massima tranquillità e sicurezza e nella più totale organizzazione perché guardate che non è facile, la parte organizzativa è determinante e devo ammettere che dal più piccolo comune di questa provincia al più grande si è dimostrati tutti di avere una grande rete, di avere una grande preparazione organizzativa. I nostri amministratori sono i migliori, io lo dico sempre perché hanno affrontato neve, terremoti, pandemie, quindi sono amministratori preparati. La nostra protezione civile è tra le migliori che ci sono in Italia.